Sono diverse le segnalazioni giunte in redazione rispetto ad una cassetta stradale installata in via Galvani all'angolo con via Trentino ad Andrea in modo piuttosto surreale. Si tratta di un box che contiene un derivatore della fibra ottica con accanto una cassettina elettrica installate alla punta di un marciapiede di piccole dimensioni ma con un rialzo in cemento per portare la struttura più in alto di una trentina di centimetri rispetto al piano stradale. Al danno per i cittadini e residenti c'è anche la beffa come spesso accade se si considera che sulla parte anteriore stradale della cassetta c'è anche un messaggio scritto con un pennarello lasciate libero per apertura sportello. Da rimarcare ci sono comunque almeno due aspetti in primis la scelta di quel punto per installare quella cassetta un marciapiede già stretto che avrebbe avuto tanti problemi a prescindere ma che con quella base di cemento diventano assolutamente insormontabili. E poi il tema di accessibilità delle arterie stradali andriesi. In quel punto inevitabilmente la strada è inaccessibile per esempio banalmente ad una carrozzina ed allora l'auspicio è che si possa intervenire quanto prima per eliminare quella cassetta considerando anche che a distanza di un paio di metri c'è un'altra cassetta simile in Viale Trentino installata però in un modo decisamente più corretto e cioè senza intralciare banalmente anche all'attraversamento pedonale in quel punto. Un po' di buonsenso avrebbe aiutato ad evitare questo disagio che prosegue ormai da diverso tempo.